Salve a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video del corso online di chimica organica. Nel video di oggi andremo a vedere la reazione di idrogenazione degli alkeni. Nei video precedenti avevamo visto infatti la nomenclatura degli alkeni e le loro proprietà principali, chimiche e fisiche, in particolare le proprietà del doppio legame. Oggi vediamo come tramite la reazione di idrogenazione possiamo per esempio stabilire tra più alkeni someri qual è il più stabile, argomento fondamentale per tutto il prosieguo. Successivamente infatti vedremo le reazioni di formazione degli alkeni e in quel caso sarà molto importante riuscire a capire tra due possibili alkeni qual è il più stabile, perché come vedremo a seconda di qual è il più stabile potrebbe formarsi l'uno o l'altro. Allora, iniziamo dicendo che la reazione di idrogenazione, come dice il nome, è appunto la reazione di addizione di idrogeno, H2, al doppio legame, per passare in questa maniera da alchene ad alcano. Quindi per esempio se prendiamo il butene, l'uno butene, e lo facciamo reagire con idrogeno, H2, in presenza di un catalizzatore metallico, come per esempio il platino, otteniamo il butano. Come vedete il prodotto della reazione è appunto un alcano. Quello che è successo è stato che al doppio legame, quindi CH3, CH2, CH, CH2, si sono aggiunti due idrogeni, rendendolo in questo modo saturo. Quindi da CH CH2 otteniamo CH2, CH3, ok? Questa reazione è una reazione esotermica, cioè è una reazione che sviluppa energia, quindi con delta H minore di zero. Il fatto che sia una reazione esotermica cosa ci indica? Ci indica che, dal punto di vista energetico, gli alceni sono meno stabili rispetto agli alcani, tant'è che appunto la reazione di idrogenazione è una reazione termodinamicamente spontanea. Quindi immaginiamo di avere come riferimento di energia, per esempio il butano, ok? Quindi possiamo dire che l'unobutene, per esempio, si troverà all'incirca qui, ok? Quindi ha energia più alta, quindi questa qua è l'energia. E qui mettiamo l'unobutene. Ora, immaginiamo di prendere in considerazione, invece che l'unobutene, i suoi isomeri. Quindi il due butene, nella sua forma cis e nella sua forma trans. Quindi se ce l'andiamo a disegnare, stiamo parlando di questo qua, il trans, quindi trans due butene, e la forma cis. Quindi il cis due butene. Ora, cominciamo chiedendoci, è più stabile l'unobutene o il due butene? La risposta a questa domanda è che, in generale, gli alceni più sostituiti sono più stabili di quelli meno sostituiti. Detto in altre parole, l'alcene interno, cioè in cui il doppio legame si trova all'interno della catena, è più stabile rispetto ad un alcene in cui il doppio legame si trova all'esterno, quindi magari è terminale. Perché questo? È un fenomeno molto simile a quello che abbiamo visto per la stabilizzazione dei radicali, quindi un tipo di iperconiugazione. Il fatto di avere dei carboni con degli idrogeni vicini che possono cedere densità elettronica agli orbitali P produce una stabilizzazione extra, quindi più l'alcene è sostituito, più è stabile. Di conseguenza possiamo dire che sicuramente i nostri due buteni, quindi sia il cis che il trans, saranno più stabili rispetto all'uno butene. Quindi sicuramente entrambi li mettiamo qui giù, ok? Dal punto di vista energetico. Saranno a energia inferiore rispetto all'uno butene. Ma ora chiediamoci, tra il cis e il trans, chi è il più stabile? La risposta è il trans. Perché? Perché abbiamo una integrazione sterica inferiore. Ovviamente nel momento in cui ho i due metili, quindi due gruppi CH3, cosa faranno? Se sono alla stessa parte del legame, ovviamente interagiscono tra di loro. Questa integrazione è sfavorevole, è come se dovessero occupare lo stesso spazio. In trans, invece, sono più liberi, ok? Perché ognuno è della propria parte, per cavoli propri, stanno benissimo. Di conseguenza il trans, due butene, sarà in realtà leggermente più stabile rispetto al cis. Per cui, se l'uno butene è quello meno stabile in assoluto, poi avremo il cis, due butene, e in seguito il trans, due butene. Ma esattamente quanto sono più stabili? I valori esatti sono questi qua. Quindi il delta H per la reazione di idrogenazione del 1 butene vale meno 30,3 kilocalorie per mole. Nel caso del cis, due butene, vale meno 28,6 kilocalorie per mole. Nel caso del trans, due butene, vale invece meno 27,6 kilocalorie per mole. Qui, come vedete, mano a mano, l'energia per passare dal chene a alcano sta diminuendo. Questo vuole dire che il trans, due butene, è più stabile rispetto al cis, che è più stabile rispetto all'uno butene. In che modo procede la reazione di idrogenazione? Questo è un altro concetto importante. Bene, la reazione di idrogenazione è una addizione. È un'addizione che richiede, appunto, la presenza, però, di un catalizzatore. Cos'è un catalizzatore? Un catalizzatore è una sostanza che permette ad una reazione di avvenire più velocemente. Ok? In generale, ricordatevi che il catalizzatore non fa diventare una reazione spontanea, non spontanea o viceversa. Se una reazione non è spontanea, continua a esserlo comunque. Lo scopo del catalizzatore è accelerare una reazione. In che modo? Permettendo alla reazione di procedere secondo un meccanismo che sia più favorevole. Ok? Immaginiamo, per esempio, di essere in cima a una montagna, ok? Con un bel paio di sci e di voler scendere sul mare. Se abbiamo una discesa dritta, sarà molto facile. Ci basta darci quella piccola spinta per iniziare a scendere e poi scenderemo dritti. Cosa succede, invece, se dobbiamo prima superare una vallata e poi scendere? In questo caso, ovviamente, dal punto di vista della stabilità, la nostra tendenza sarà sempre quella di scendere. Però, cosa dobbiamo fare? Prima di poter arrivare a valle, dobbiamo andare a superare questo piccolo rilievo. Ok? In quasi tutte le reazioni abbiamo sempre un piccolo scoglio energetico che va superato. Ok? Quello che si chiama energia di attivazione. E' quell'energia necessaria per far partire la reazione. A volte questa energia di attivazione può essere molto alta ed è lo scoglio che impedisce di una reazione di procedere. Ok? Immaginate ora di avere questa montagna magari da superare con gli sci che è molto alta. Anche se, in teoria, la strada è in discesa perché alla fine dovete scendere a mare, magari quel monte non riuscite a superarlo per cui rimanete fermi dove siete. Cosa fa il catalizzatore? Il catalizzatore permette alla reazione di procedere secondo un meccanismo più favorevole. Nel nostro caso permette allo sciatore di, invece di salire sopra la montagna, prendere una via laterale, aggirarla e poi scendere giù. Nel nostro caso il catalizzatore è il platino, per esempio, ma può anche essere il palladio o il nickel. In particolare il platino normalmente viene aggiunto come Pto2 che, tramite lo stesso idrogeno, poi viene ridotto a platino metallico nell'ambiente di reazione. Il nickel viene aggiunto sotto forma di quello che si chiama nickel Ranei. Ranei è il nome di uno scienziato che ha inventato questo catalizzatore a base di nickel. Si tratta di nickel puro, soltanto che è in una forma fisica tale, una forma spugnosa, tale da avere un'ampia aria disponibile. Questo permette al gas di avere un'ampia superficie di contatto e quindi la reazione è molto più veloce. Un'altra possibilità è quella di usare appunto il palladio, che in genere lo trovate come palladio disperso su carbone. Come funzionano questi catalizzatori? Se noi vogliamo far avvenire la reazione, quello che succede è che dobbiamo rompere il legame idrogeno-idrogeno e formare un legame idrogeno-carbonio, giusto? Noi stiamo partendo, abbiamo detto, prendiamo l'etilene, per esempio, quindi C, C, H, 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 H. E lo vogliamo far reagire con l'idrogeno, H, H. Quello che deve succedere cos'è? Che il legame idrogeno-idrogeno si deve rompere, il doppio legame si deve rompere e si deve formare un legame carbonio-idrogeno e un altro legame carbonio-idrogeno. Cosa fa il catalizzatore? Il catalizzatore ci aiuta proprio a rompere questo legame idrogeno-idrogeno. In che modo? Immaginiamo che questa sia la superficie, per esempio, del platino. Allora, la nostra molecola di idrogeno si avvicina. Quello che succede a questo punto è che abbiamo un'interazione favorevole tra idrogeno e platino che porta alla rottura del legame. Per cui il primo passaggio, allora, partiamo dall'idrogeno completamente legato a se stesso. Il secondo passaggio è il legame idrogeno-idrogeno si sta rompendo e si sta formando il legame con il metallo. Terzo passaggio, l'idrogeno è legato direttamente al metallo. A questo punto cosa può succedere? A questo punto arriva l'alchene, quindi lo mettiamo per esempio qui. Lo sto disegnando sul piano per un motivo ben preciso, ora vi spiego perché. Idrogeno-idrogeno. E idrogeno-idrogeno. A questo punto cosa succede? Succede che si va a formare il legame carbonio-idrogeno, il legame carbonio-carbonio si rompe, quindi poco a poco si sta rompendo, e anche il legame dell'idrogeno col metallo si rompe. Alla fine, quello che otteniamo sarà appunto CCH, quindi H, ah, anzi lo disegniamo un po' meglio così vi faccio vedere una cosa interessante. H, H, idrogeno-idrogeno-idrogeno-idrogeno. Notate bene come siamo passati ovviamente da una molecola planare, l'etilene, a una molecola tetraedrica, SP3, che è appunto l'etano. Un altro aspetto interessante è il fatto che, come vedete, in seguito al meccanismo, proprio a come sta avvenendo la reazione, l'addizione dei due atomi di idrogeno avviene dalla stessa parte. Ok? In pratica quello che sta succedendo è questo. Se immaginiamo che, per esempio, questo qua, ok, sia il piano della molecola, l'idrogeno è in questa maniera, ok, è sul piano del platino. Di conseguenza, la sua interazione, i due idrogeni, si vanno a disporre dalla stessa parte del piano. Questo vuole dire che, per esempio, se la molecola che si va a formare è chirale, si formerà solamente uno specifico stereosomero. Vi faccio un esempio. Immaginiamo di poter fare l'idrogenazione di un cicloesene, ok? Anzi, un metilcicloesene. Facciamo metile e qua ci mettiamo anche un bel cloro, ok? Allora, in teoria, io mi aspetto che, in seguito all'idrogenazione, si possono formare ben quattro molecole diverse, a seconda di come si dispongono gli idrogeni. Quindi, in teoria, potrei avere, per esempio, una molecola cis, quindi, in cui gli idrogeni e cloro e metili sono alla stessa parte. Dato che la molecola è chirale, quella che ottengo, in realtà esiste in due forme, ok? Quindi, in due enantiomeri. Quindi, per esempio, avrò idrogeno, idrogeno, cloro e metile, ok? Sono due forme cis, in cui, quindi, entrambi gli idrogeni sono dalla stessa parte e metile e cloro sono dalla stessa parte. E poi possiamo avere gli isomeri trans. Quindi, negli isomeri trans avremmo, per esempio, che se il metile va su, il cloro va giù, o viceversa. Ora, gli idrogeni non li disegno, giusto per semplicità, ok? Quindi, questa volta mettiamo il metile giù e il cloro su, ok? Di queste quattro molecole, quale si formerà? La risposta giusta è che si formeranno questi due isomeri, ok? Questi due enantiomeri. Perché? Perché abbiamo detto che l'addizione dell'idrogeno deve venire dalla stessa parte. È un'addizione che si dice procedere con un meccanismo sin, ok? Meccanismo sin vuole dire che l'attacco dei due, diciamo, delle due atomi che attaccano avviene dalla stessa parte. Viceversa, un meccanismo anti è un meccanismo in cui l'attacco avviene da parti opposte, ok? Per ottenere i due isomeri che vi sto segnando in rosso avremo bisogno di un meccanismo anti in cui i due drogeni entrino da parti opposte dal piano, uno sopra e uno sotto. Quindi in realtà non è così ma otteniamo solamente l'attacco sin che ovviamente può avvenire sopra o sotto il piano per cui a seconda di come avviene otteniamo un enantiomero o l'altro. Bene, direi che per oggi ci possiamo fermare qui. In realtà poi questo tipo di reattività lo approfondiremo nei video successivi perché infatti avremo bisogno di ancora ulteriori conoscenze. Tuttavia questo è importante perché la stabilità degli alkeni appunto ci serve per vedere il prossimo argomento che è la sintesi degli alkeni tramite le reazioni di eliminazione che sarà appunto il tema del prossimo video. Io vi ringrazio, vi ricordo che sul sito www.lachimicapertutti.com oltre a approfondimenti e articoli trovate tutto l'elenco di video disponibili compresi quelli che sono già stati caricati ma che ancora non sono pubblici e che sono disponibili solamente per i sostenitori. Se avete qualsiasi dubbio ovviamente non esitate a scrivermi potete mandarmi una mail oppure potete contattarmi sulla pagina Facebook o ovviamente tramite commento. Se il video vi è piaciuto ricordate di condividere con i vostri amici e io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!